Mentre legge il mistero su come in modo pratico Carlos Ghosn sia riuscito a fuggire dal Giappone, dove era i domiciliari a Libano, sette persone sono state portate in tribunale perché sospettate di aver aiutato l'ex presidente di Renault e Nissan. Gli individui sono stati fermati a Istanbul, in Turchia, presunto scalo effettuato da Ghosn. La compagnia di charter privati turca MNG ha denunciato l'uso non autorizzato di due dei suoi velivoli, dichiarando di aver sporto denuncia. Oggi, chiuso in un luogo segreto a Beirut, l'imprenditore dai tre passaporti attende di dire alla stampa la sua, come dichiara l'avvocato. Credo sia impaziente di spiegarsi in tutta trasparenza, di rispondere a tutte le domande che gli verranno poste. Ghosn terrà un'attesissima conferenza stampa il prossimo mercoledì alla quale pochi media sono stati invitati. Nel frattempo la stampa francese lancia un'indiscrezione. L'ex patron di Renault avrebbe già firmato da mesi un accordo di esclusiva con Netflix per raccontare la sua storia.